tienimelo sotto controllo se cabe vado a prenderlo in acqua per forza deve andare si, si e spento si e spento non parte prima di armiarli hai tolto il zoom? si si e spento non parte prima di armiarli si, si e spento si, si e spento e subito il zoom in effetti potete dire prendere un pannino un po di prosciutto salamella ci hai pensato già a casa un po di prosciutto hai tolto il zoom? sì adesso devo metterlo un attenzio ormai non n non Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.